Il cinema celebra Botticelli, uno dei suoi artisti simbolo. Botticelli trascende il tempo e il linguaggio. È parte del nostro immaginario collettivo. È un grande designer. Questa straordinaria abilità lo ha reso famoso nel XV secolo ed è evidente ancora oggi. Ritengo Botticelli il più grande pittore semmai esistito al mondo. Il fascino eterno dei suoi capolavori. L'inventore della nuova bellezza. Arriva al cinema il film è evento. Botticelli infrange le barriere del tempo e dello spazio per entrare per sempre nell'immaginario collettivo. Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza. Al cinema solo il 28, 29 e 30 novembre. Info e biglietti su nexodigital.it